Oggi volevo dedicare una puntata a un classico, o per meglio dire un classico moderno, essendo tecnicamente la XXBitter, di Deran che è nata solo tra virgolette nel 1996, ma stiamo parlando in ogni caso di un pezzo di storia davvero importante secondo me, sia per lo sviluppo della cultura brassicola belga, sia perché con questa birra Deran che ha preceduto con largo anticipo tutto il trend delle birre lupolate e ultra lupolate che oggi va tanto di moda. Come al solito, innanzitutto per prima cosa vediamo la scheda con tutte le informazioni e le caratteristiche di questa birra, birrificio Deran che appunto ci troviamo a Dottignes in Belgio, il nome di questa birra è una XXBitter, è lo stile indicato quello di una Belgian Pale Ale, categoria 24B del BJCP, ma appunto vedete un piccolo asterisco, poi ne parliamo, grado alcolico 6 gradi, bottiglia acquistata in Beer Shop 3,40€, bottiglia da 33cl, bicchiere ho messo un punto di domanda, anche qui erano deciso su pinta, perché una Pale Ale andrebbe a essere avita in una pinta, ho visto che una birra molto lupolata a chiudere appunto per sottolineare l'apporto aromatico del lupolo, ne discuteremo a breve, e no, non si tratta di un primo assaggio. Partiamo dalla scheda dove ci sono appunto asterischi e punti di domanda da analizzare, lo stile indicato su questa scheda seguendo quello che viene riportato su molti siti internet è quello di una Belgian Pale Ale, dove a volte viene precisato però giustamente che si tratta sì di una Pale Ale ma molto lupolata. Altre volte però l'ho vista anche indicata come Belgian IPA, ma credo sia una visione diciamo un po' più moderna, dal momento che appunto come già detto diverse volte negli ultimi anni è un po' esplosa la moda per IPA, APA e comunque stile derivati da queste birre anglosassoni molto lupolate. Cosa dice il sito ufficiale di Der Anche? Nulla ovviamente, nel senso che, come spesso accade anche per altri birrifici belgi, non classifica le proprie birre con gli stili che tanto ci piace andare a cercare sul BJCP e si limita il sito di Der Anche a indicarla come una birra molto mara ad alta fermentazione. Mentre se ci spostiamo sul fondo della scheda, anche sul bicchiere è necessario spendere due parole. Se le Pale Ale vengono infatti tipicamente servite in bicchieri a pinta e anche con i le Belgian Pale Ale potrebbero essere un caso di questo tipo, più che altro però per tradizione, in questo caso infatti ho scelto un bicchiere a chiudere per cercare di concentrare la parte aromatica del lupolo che caratterizza questa birra. In generale credo sia sempre bene ricordarsi di una cosa, ossia della differenza tra la tradizione e la funzione tecnica di quel bicchiere. I bicchieri infatti cosiddetti a chiudere possono aiutare a concentrare gli aromi in fase di degustazione anche se tradizionalmente, ossia storicamente, non venivano utilizzati magari quei bicchieri o questi bicchieri per quegli stili. Se pensi ad esempio ai Tumblr tipici dei Lambic, secondo me è un bonus precormatico dal mio punto di vista, ma appunto dobbiamo distinguere il bicchiere tecnico da quello storico, cioè tradizionalmente utilizzato per quel tipo di prodotto. Ma passiamo al birrificio in questione. Deranke è un birrificio belga che si trova nella famosa regione di Poperinghe, ragione famosa per la produzione di lupolo. Ahimè però regione non sufficientemente grande per soddisfare tutta la richiesta di lupolo nazionale, dal momento che la produzione di birra in Belgio, come potrete immaginare, è piuttosto elevata. Ma stiamo sempre parlando di un paese, il Belgio intendo, con una superficie un po' più grande, poco più grande della Lombardia, ma con un consumo di birra pari a quello di tutte le regioni italiane messe assieme. Per non parlare poi dell'export, altro settore importante che raddoppia quasi la quantità di birra prodotta appunto dal paese. Fatto sta che Deranke, il cui nome in fiammingo, significa proprio letteralmente i filari, filari di lupolo si intende, ci assicura che tutto il lupolo viene dalla regione di Poperinghe e in particolare da un produttore locale con cui hanno una partnership esclusiva da diversi anni ormai. Ma facciamo un passo indietro. I due fondatori del birrificio, Nino e Guido, tipici nomi fiamminghi, hanno entrambi un passato da Ombriore, fine agli anni 80. Nel 1994 fondano appunto il birrificio Deranke e partono con la produzione di una sola birra, chiamata Gutenberg e tuttora presente in linea. Ma due anni dopo, nel 96 appunto, nasce la XX Bitter destinata a diventare la birra simbolo di questo birrificio. La XX Bitter si proponeva fin dal nuovo infatti come una birra molto mara, tanto da essere la birra con il più elevato valore di IBU di tutte le birre belghe, record conservato fino a qualche anno fa. Una scommessa secondo me davvero ambiziosa considerando i tempi e le abitudini dei consumatori belgi appunto dell'epoca, sicuramente orientati verso birre più morbide e meno amare. Ricordiamoci infatti che siamo nella prima metà degli anni 90, quando le IPA e le birre americane ultraluppolate non esistevano ancora. C'è un bell'articolo di Thorsey Pilgrim che parla della New Wave of Belgian Hobby Beer, indicando proprio come questa XX Bitter abbia aperto la strada al mondo di tutta poi una serie di birre lupolate appunto belghe che loro voltano aperto la strada alle birre americane. Vi lascio il link in descrizione ovviamente, ma permettetemi prima di ricordare che sono aggiunto quell'articolo dal sempre ottimo blog, una birra al giorno. Ma tornando alla nostra XX Bitter, di cosa si tratta? Allora, di base è Maltichiari, Pilsner o Pell non è specificato, ma dosi massicce di lupoli Brewers Gold e Allertowers Broker in Kony viene specificato sul sito. Non viene specificato però se il lupolo sia stato utilizzato in dry hopping, ma sicuramente una buona quantità di lupolo è aggiunto diciamo nella parte finale della bollitura del mosto o dopo la bollitura del mosto in modo tale da estrarre comunque al massimo il contenuto aromatico di questa pianta. E prima di aprirla come al solito due parole sulla grafica, il tappo ha la stessa veste grafica della bottiglia, quindi fondo di due colori e semplicemente la scritta XX Bitter. Nel logo di The Rank appaiono sia spiega probabilmente di orzo, sia del lupolo e sotto la scritta Bitter comunque c'è il disegno stilizzato di tre coni di lupolo per l'appunto. La grafica di questa bottiglia è stata rinnovata qualche anno fa, ma di base era molto molto simile a quella vecchia. Quella vecchia forse aveva il fondo completamente bianco, mentre adesso c'è questo gioco di due tonalità di verde. Importante, la bottiglia più grande, questa è quella più grande di XX Bitter viene venduta con un involucro di carta. Spesso succede per le biere belghe, quelle da 75 o le Magnum eventualmente non hanno l'etichetta così, ma appunto un involucro di carta che ricopre completamente la bottiglia e insomma dà un po' secondo me l'impressione una confezione un po' premium, a differenza appunto di questa invece è un attimino più standard. Ma direi adesso di aprirla e passiamo alla degustazione. Come anticipato il bicchiere scelto è in questo caso un tulipano, è il mio bicchiere d'uva, il compagno di tante avventure. Appunto non viene specificato in questo caso dai produttori se consumare questa birra in una pinta, in un bicchiere aperto, in un bicchiere a chiudere, se non diversamente indicato allora direi che possiamo scegliere noi e io in questo caso lo scelgo su, vado sul bicchiere a chiudere. Come al solito evito di versare il fondo con il sedimento di lievito esausto e passiamo subito all'analisi visiva. Una schiuma abbondante, finissima, di color bianco, molto regolare e una birra dorata, leggermente velata, ma appunto color dorato. E passiamo al naso, già molto importante a questa distanza. Allora al naso ci sono tre macro categorie di descrittori. La prima, secondo me, che mi ha colpito è sicuramente quella relativa ai lieviti del belgio e questi descrittori aromatici vanno verso lo speziato e l'agrumato. Questo speziato però potrebbe essere, diciamo, potrebbe coincidere con l'altra grossa famiglia di descrittori aromatici che è quella ovviamente del lupolo e in questo caso lupolo appunto erbaceo e sapendo che c'è anche dell'allertau, lo speziato potrebbe arrivare anche da questi lupoli europei. La terza famiglia appunto è quella del fruttato e in questo caso appunto mi ricollego al primo, cioè questo agrumato, credo derivi proprio da tutti i prodotti appunto generati da questo ceppo di lievito belga. Non è una blanche, non credo proprio ci sia dell'infusione di scorza d'arancia, ma credo che sia un agrumato appunto che direvi solo dal lievito. E passiamo quindi al palato. Beh, come ci aspettavamo al palato il gusto dominante è l'amaro, però un amaro perfettamente bilanciato, mai esagerato troppo spinto e sicuramente un amaro lunghissimo. L'amaro aumenta e aumenta tanto dopo il sorso. Mentre parlo continua a lavorare questo finale molto lungo, molto amaro e che sta passando sempre di più verso un amaro vegetale. Mentre in bocca l'amaro è sicuramente amplificato dalla secchezza, dopo il sorso c'è questo amaro vegetale che continua a crescere e a lavorare e permanere appunto molto molto lungo in bocca. Ma appunto non è un amaro esagerato, è ben bilanciato con la componente maltata, seppur molto contenuta dalla parte iniziale del sorso. E sul retro gusto, sul retro olfatto, torna poi tutta questa parte vegetale, erbacea e floreale che avevamo appunto già sentito con quei lupoli al naso. È affascinante secondo me appunto questo finale davvero lungo che evolve dopo il sorso ed è una delle caratteristiche appunto secondo me molto interessanti di questa birra. Che sì, si mostra come birra molto amara, ma immagino che gli standard moderni, moderni intendo appunto del 2020, siano molto differenti rispetto agli standard di amaro del 1994. Quando questa birra è uscita e davvero sono sorpreso di quanto ambiziosa sia stata la scelta di Der Anche, di produrre in Belgio appunto una birra così amara e così appunto spinta. Ovviamente è una birra fatta talmente bene che non è un amaro sgraziato, non è un amaro che spaventa. Sorprende sì quello, probabilmente immagino abbia sorpreso molto, ma il successo di questa birra, tanto da diventare la birra simola del birrificio, significa che anche una cosa così ambiziosa, se ben progettata e ben costruita, si è mostrato appunto funzionare e addirittura portare al successo di questo birrificio, che appunto Der Anche poi negli anni sia un po' tra virgolette specializzato in birre molto lupolati, ha fatto proprio come ricordo il nome del lupo, una delle sue caratteristiche, tanto che mi viene in mente la più volte bevuta e celebrata per De Noël, sempre di Der Anche, una birra di Natale che a differenza di tutte le altre Kerspire e birra di Natale è appunto una birra decisamente amara e rupolata. E quindi con la XX Bitter di Der Anche Skoll. Al prossimo episodio